È uno sport di squadra ed è imprevedibile perché anche se una squadra sta perdendo, vuol sempre trovare la forza di recuperare. Secondo me è uno sport in cui ci si diverte. Passi la palla molte volte e ti diverti anche tanto. È la mia passione e ormai praticamente oltre alla scuola ci sono palla a mano per me. È tutto gioco di contatto, bello fisico. Anche se c'è il contatto fisico è comunque uno sport leale. È uno sport socievole, si fanno tante amici, tante conoscenze. È un bellissimo sport di squadra. La palla a mano è uno sport unico ed è emozionante giocare. È uno sport molto semplice, bello dove puoi perdere, puoi vengere, ma l'importante è giocare. Il palla a mano è un sport bellissimo, si può giocare in tanti modi. Da spazio a tutti. È uno sport con un gioco veloce. È uno sport completo secondo me perché si corre, si salta, si difende. È un gioco di velocità, bisogna correre, ando. Si regala tante emozioni e penso che giocare a palla a mano per me sia tutta la mia vita. Quando si fanno i partiti si fanno le reconoscenze. Secondo me è il gioco di squadra più quale del mondo. Prima è l'unione, poi amicizia e poi il divertimento. È uno sport molto dinamico. Mi dà tantissime emozioni perché si può vincere, si può perdere. Non è che perdi perché o vince o in paio o in paio. La palla a mano per me è vita, è uno sport pieno di emozioni e di sensazioni uniche. Può vivere solo sul campo con i tuoi amici.